La prima vera settimana di apertura dell'anno 2023 dei mercati e le cripto segna una fase rialzista che prosegue da quelli che erano i giorni precedenti e questo è abbastanza evidente, soprattutto alcune cripto ragazzi stanno facendo dei numeri interessanti nell'ultima settimana, vediamo anche Ethereum per esempio un più 8 che si spara ma poi abbiamo la nostra Super Solana che stiamo guardando da un po' di giorni perché è interessantissima questa criptovaluta che sta continuando la sua fase al rialzo anche in questi giorni e proprio su Solana andiamo a vedere una serie di cosette, quindi un mercato che si proietta nella prima vera settimana dell'anno 2023 quella post feste in fase rialzista, non è soltanto il mercato cripto anche il mercato old ha fatto questa fase rialzista e tra le altre cose Bitcoin raggiunge il massimo delle ultime tre settimane proprio in attesa di quello che è in dato più importante di questa settimana che verrà comunicato giovedì con la Fed che va a parlare dell'infrazione, le solite cose ma domani c'è anche Paolo, dobbiamo vedere un po' di cosette da questo punto di vista, allora come si deve muovere quello che è l'investitore in questo momento che sta cercando di decidere cosa faccio, compro o non compro o delle cose le tengo o non le tengo, vendo, vado a rialzo, è tutto quello che è la problematica in questo momento che ci viene in mente ragazzi, ci sono state anche delle cripto che hanno performato tantissimo proprio nella giornata di oggi tra le quali Zillica che se non erro adesso non la trovo qui ragazzi ve la faccio vedere dopo ma ha fatto un performance di roba da 50% le cripto sempre stupiscono da questo punto di vista. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, io una thing di il mio Bitcoin Gold lo faccio ragazzi oggi proprio perché sono tornato con un minimo di voce e riesco a farvi un video in presenza, susate per l'assenza di questi giorni ma veramente ancora sono cagionevole, sono stato malissimo e andiamo avanti comunque e soprattutto focalizzati in questo momento. il rialzo di questi giorni potrebbe durare ancora o no, questo è il vero problema ragazzi perché fino alla prima decade di gennaio che vi avevo detto già settimana scorsa che avremmo avuto questa fase rialzista e i mercati l'hanno assolutamente abbracciata questa view quindi siamo riusciti in questo caso a stare in rotta, stare con le vele verso quella graderazione dei mercati ma la domanda vera è quanto dura perché il problema di fondo è che quello che è successo a novembre con il minimo di novembre ha dettato dei dati importantissimi sui mercati delle cripto soprattutto su Bitcoin perché il minimo di Bitcoin è anche tempisticamente, ciclicamente molto importante quello di novembre questo ci porta anche un grande problema di definizione di quello che è l'anno 2023 cioè se l'anno 2023 può essere in effetti un anno ghiotto di cui nessuno si è accorta ancora magari in questo momento o no quindi ragazzi i prossimi giorni queste analisi, questi video sono importantissimi perché vi metteranno nella giusta rotta in quello che bisogna andare a guardare, in quello che bisogna ragionare, quali sono gli scenari probabili perché poi l'analisi degli scenari è la nostra super soluzione a tutto quindi come risolvere il problema? Rialzo sale? Rialzo non continua? Sì o no? Ragazzi l'unica soluzione, la soluzione è la super big solution e l'analisi degli scenari allora iniziamo in pratica con quello che è la situazione attuale andando a guardare quelle che sono alcune criptovalute e quello che stanno facendo proprio in questa inizio settimana allora ragazzi inizio proprio da CoinMarketCap abbiamo una Ethereum che sta performando benino e l'agenda di oggi H24 ve lo faccio vedere qui H24 più 5% Bitcoin sempre ovviamente sotto tono per via del concetto che è più capitalizzato degli altri anche meno volatile BNB ragazzi, BNB continua la sua fase, la vediamo proprio oggi BNB sul grafico perché BNB ha un ottimo approccio ve lo avevo già spiegato insieme a Matic insieme ad altri criptovalute quindi molto interessante Matic che si spara l'ennesimo super accordo tra le altre cose di utilizzo della sua chain per quanto riguarda il Web3 di sperimentazione della music di Mastercard questa è una super notizia perché ci sarà un acceleratore di Mastercard che vuole andare a verificare quelle che sono le possibilità nel Web3 per quanto riguarda i musicisti e gli artisti è una cosa che tra le altre cose a me interessa molto particolarmente ragazzi ed è proprio con la questione di Polygon che Mastercard fa questa sua unione per utilizzare Polygon quindi Polygon ragazzi a livello di diciamo piove questo meccanismo di inserirsi nell'ambito delle sperimentazioni del business a livello istituzionale era numero uno senza dubbio ci sono anche altre reazioni degne di nota tra cui Cartano ragazzi che si spara comunque più 12 solo oggi 27 giornata poi abbiamo Polygon qui e Solana Solana ci interessa perché la stavamo seguendo sta facendo insomma quello che più o meno ci aspettavamo cioè il rialzo di quella situazione degli 80 giorni ho pubblicato un convocale proprio oggi nel mio canale Telegram a proposito sempre in descrizione ragazzi lo trovate gratuito iscrivetevi al canale Telegram sto facendo un po' di analisi anche di briefing anche a voce di quelle che sono le analisi mi piace molto questo modo di operare tra le altre cose se vi piace anche voi commentatemi magari e fatemelo sapere così riesco anche a comprendere dove andare a parare poi c'è LDO ragazzi che ha fatto invece performance importati però andiamo in sostanza a vedere quelli che poi sono i grafici che ci interessano partendo secondo me da quello che è Solana perché per andare a rispondere alla questione se questo rialzo può continuare o meno soprattutto su alcune cripto poi vediamo anche l'analisi tecnica ciclica di Bitcoin per la settimana dobbiamo ragionare un po' a scenari ragazzi no? quindi andare a vedere quelli che sono gli scenari più probabili tra le altre cose però prima di questa cosa che mi ero dimenticato volevo farvi vedere quelle che erano le giornate clou che secondo me proprio nella settimana in questione dobbiamo tenere sotto stretta osservazione lo so che molti di voi diranno le giornate clou è sicuramente il 12 di gennaio con l'uscita dei dati sul tasso di infrazione negli Stati Uniti le chiese di preoccupazione cioè tutta questa roba ragazzi è una bomba super bomba però è anche vero che secondo me è qui che invece si gioca la partita cioè domani in realtà perché questa cosa ragazzi? perché in realtà io credo che i mercati scontino ormai che il tasso di infrazione continuerà a scendere come però sto spiegando in pratica da novembre del 2022 questo è un dato di natura tecnica quindi statistico-tecnica è una curva che non può che scendere in questo caso per una serie di motivi quindi i mercati lo sanno già questa cosa magari se scende un po' di più la prendono bene e la prendono male ma quello che invece interessa, quello che può scioccare i mercati è il discorso di Powell e i dati invece sulla questione legata magari al PIL e alla recessione perché è proprio lì che si gioca la partita in quanto assodato il concetto che l'inflazione rientrerà nell'anno 2023 dove deve stare il problema è cosa farà Powell che è veramente quello che i mercati vogliono sapere perciò in sostanza ragazzi ci spostiamo un po' l'attenzione dobbiamo spostarla un po' l'attenzione in questi prossimi mesi da quelli che sono alcuni dati ad altri e questo è normale perché l'attività dell'analista ragazzi si evolve quindi non è sempre uguale, bisogna guardare sempre le stesse cose e le news non impattano il mercato negli stessi identici modi in questo momento probabilmente la news dell'inflazione potrà impattare il mercato solo se è negativa cioè solo se questo dato per esempio annuale non è più 6 e 5 sugli Stati Uniti ma è 8 per esempio in quel caso succede un disastro detto questo ragazzi andiamo a guardare invece gli scenari di Solana Solana è interessante perché come vi dicevo nell'ultimo mio video relativo alla questione delle analisi di Solana Solana deve rispondere a una problematica di natura di lungo periodo e anche una problematica di breve il breve ha fatto esattamente quello che ci aspettavamo è più semplice definire gli andamenti degli asset e comprendere come muoversi nel breve periodo soprattutto quando i mercati sono estremamente volabili il lungo periodo è molto più complesso del breve periodo nell'analisi degli scenari ragazzi ed è destinato a un modo di investire completamente diverso e nei momenti, nei periodi di snodo come quello dell'anno 2023 che è un anno di snodo, è un anno complesso, è un anno nonno di facile individuazione di quelli che potrebbero essere degli scenari il lungo periodo secondo me potrebbe essere estremamente forbiante quindi va tenuto sempre come obiettivo come è il nostro orizzonte però bisogna ragionare sul breve cioè breve intendo comunque 6 mesi, un anno, 2023 e non andare a ragionare ovviamente nell'intraday ragazzi ricordatevi sempre il concetto diverso tra investitore e trader intraday che il 3d3 è il speculatore, magari facciamo qualche video su quello e li facciamo insieme le speculazioni comunque questa fase qui è una fase che appartiene a questo ciclo che Solana sta facendo di 70-80 giorni di cui vi ho parlato ed è un ciclo molto forte, questo momento è iniziato però proprio con il breakout di oggi stancisce l'inversione definitiva del trend di brevissimo periodo cioè un trend che in pratica aveva iniziato su questo minimo poi è fatto una B, in questo caso una breve pausa in questa zona e poi è ritornato breccando questo livello quindi in pratica sancisce anche un concetto ciclico cioè questa parte qui di rialzo non appartiene più a questo movimento quindi questo movimento a livello ciclico termina con quel minimo è un po' assodato, lo avevamo già detto però ce lo conferma anche il mercato la questione è adesso dove può arrivare allora può arrivare dove vuole in questa zona fino a questa zona qui cioè questa zona qui, vedete? in questa zona qua perché Solana non ha vincoli in questo momento di stare al di sotto di questi livelli di prezzo ha un solo vincolo teorico cioè deve stare al di sotto di questo massimo qui se supera questo massimo ovviamente sono cifre enormi cioè sarebbe da fare 2-300% adesso lo vediamo se supera quello però significa che sul minimo ultimo minimo è stato chiuso un nuovo ciclo annuale al 100% e tutta questa analisi è totalmente da rifare quindi concettualmente se queste analisi che noi abbiamo fatto quelle di lungo periodo che è un po' il dubbio che abbiamo anche su Bitcoin, su Ethereum, su tutte sono confermate con questa struttura ciclica che teoricamente poi va a chiudere verso marzo-aprile la sua fase quindi questa sarebbe la parte alta per poi andare a fare una struttura del genere allora a quel punto non può andare al di sopra di questo livello e questo è fondamentale andarlo a comprendere perché se ci va vuol dire che qui ragazzi è iniziata un'altra cosa e qui probabilmente si è chiuso un altro ciclo probabilità che ancora esiste perché? perché Bitcoin non ha breccato i minimi di novembre e il fatto di novembre molto rilevante per Bitcoin lo vedremo poi magari più là nel corso dei vari video quindi Solana questa fase rialzista continuerà potrà continuare tranquillamente almeno fino per esempio a una strutturazione di questo ciclo a livello mensile considerate che un ciclo mensile di questo tipo potrebbe chiudere intorno all'1 di febbraio perciò non c'è niente di strano magari a vedere una cosa del genere per poi andare in chiusura quindi arrivare anche magari a questi livelli di prezzo è un concetto cioè una continuazione del trend molto semplice che potrebbe tranquillamente avvenire su Solana come vi ho detto qui la stessa identica cosa quindi in questo break è semplicemente una conferma di analisi tecnica non ciclica ma analisi ciclica ci dice che può tranquillamente salire un altro 20% proprio con tranquillità cioè non gli frega niente può addirittura andare in questa zona a fare il pullback del precedente livello di supporto che è stato breccato vedete questo qui a 25 dollari secondo me se arriva là è un po' altino sono sincero però ci può anche arrivare tranquillamente proprio in questa struttura ciclica prima di fare magari una struttura fatta in questo modo le parleremo poi successivamente perché ad esempio questo è uno scenario più probabile a continuazione del trend di Solana nei prossimi giorni poi ci sarà anche magari la possibilità di vedere un pullback prima di una salita le solite oscillazioni dei mercati alle cripto però è estremamente interessante questa cosa andiamo a vedere invece lo scenario di Ethereum che mi interessa tantissimo ah volevo farvi vedere BNB altrimenti mi dimentico tra le altre cose ragazzi sto facendo anche una serie di liste di quelle che sono le criptovalute che secondo me nel 2023 dovremmo tenere sotto stretta osservazione sono molto interessanti sia da un punto di vista di progetto ma anche da un punto di vista di analisi tecnica ciclica perché come avete visto l'importanza è abnorme nell'analisi degli scenari perciò iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto perché nei prossimi mesi nei prossimi settimane tornate a Miravoce riusciremo a fare anche questi super briefing di criptovalute secondo me estremamente interessanti potremmo creare delle categorie delle liste proprio di criptovalute e tenere sotto stretta osservazione lo faremo ovviamente insieme vi faccio vedere BNB perché BNB proprio come anche lei ne avevamo parlato in maniera proprio evidente su BNB e anche Matic Matic che per forma un po' meno di BNB vi avevo spiegato che qui probabilmente è iniziato un nuovo ciclo semestrale quindi un ciclo più imponente per quanto riguarda proprio questa criptovaluta che potrebbe portare poi alla sua definizione finale verso luglio-agosto di questa struttura ciclica allora BNB sembra proprio che dal minimo di giugno abbia iniziato un ciclo annuale ed è il dubbio famoso che dobbiamo poi derimere nelle prossime settimane ma è questa struttura ciclica non ha vincoli cioè non ha vincoli al ribasso cioè teoricamente può rompere anche questi massimi a 400 dollari è un po' strano perché magari se BNB fa una cosa del genere significa che è un trend molto forte che durerà anche a febbraio probabilmente però non ha vincoli quindi se da un punto di vista di analisi tecnica e quindi analizziamo dati e da un punto di vista anche di analisi ciclica analizziamo dati ragazzi e non ci facciamo prendere dal concetto che magari le altre cripto sono in fase di ribasso che potrebbe esserci una ripresa della Fed che tutto potrebbe crollare questo può sempre succedere però nell'analisi dei dati oggettivi noi troviamo una soluzione a quelli che sono gli scenari più probabili e qui abbiamo un'analisi di un dato oggettivo cioè non abbiamo né un'inversione di trend su BNB di breve medio periodo né una struttura ciclica che ci indica di stare attenti cioè in pratica questa cripto dal giugno da giugno ha fatto un minimo un minimo Rialzista adesso ha fatto una struttura non un solo massimo perché il massimo dovremmo indicarlo qui però io la identificerei più come una struttura di prezzo che segna una serie di massimi che è quella intorno ai 3,50 può tranquillamente continuare questa sua fase di up e down facendo una cosa del genere nulla alla dieta ragazzi perché tecnicamente sarebbe una normalissima andamento laterale Rialzista di un trend questo è concettualmente il discorso quindi BNB fortemente sotto stretta osservazione anche perché ciclicamente essendo in un nuovo ciclo serestrale con grande probabilità può avere grandi possibilità ovvio ragazzi che se questo livello non dovesse essere breccato diventerà un tappo per BNB e a quel punto attenzione perché probabilmente sarà poi una struttura del genere che andremo a vedere nel corso dell'anno però ovviamente ragazzi come sapete non mi piace fare previsioni senza capo in coda guardando dati che poi magari nell'arco dei prossimi mesi cambiano radicalmente stiamo un po' sul pezzo sul momento non è inutile che ci facciamo le previsioni da qui ai 75 anni anche perché poi non ci serve ad raccomandare questa cosa quindi BNB molto bene e continuerà questo trend andiamo a vedere Bitcoin nostro amato Bitcoin un po' sottotono ancora però respira e mi piace molto la struttura di questo trend che è iniziato dal nuovo ciclo mensile del 30 di dicembre allora Bitcoin sicuramente nuovo ciclo mensile qui vedete lo spauracchiono il livello di prezzo che potrebbe raggiungere alla conclusione di tutte queste questioni qui allora abbiamo una serie di dati che secondo me sono rilevanti intanto qui togliamo un po' di facciamo un po' di pulizia ragazzi altrimenti veramente diventa un po' difficile andiamo a togliere tutti questi livelli che sono un po' lontanucci magari ci ritorna però poi magari quando ci ritorna lì andiamo nuovamente a considerare allora Bitcoin ha utilizzato questo minimo del 30 di dicembre per iniziare una nuova fase di analisi di ciclo mensile ciclo mensile che probabilmente sarà ancora una volta intorno ai 36 37 giorni il minimo super importante a questo punto risulta questo di novembre del 21 di novembre perché è il minimo gigantesco di Bitcoin che dovremmo tenere sotto stretta osservazione perché se è perso quel minimo significa che comunque la struttura ciclica è totalmente ribassista fino a giugno luglio almeno e su quello non ci piove più cioè non abbiamo neanche più il dubbio al momento invece la possibilità di aver fatto un minimo a novembre resta valida e ancora è valida è un po' difficile ma è valida ragazzi e questo va tenuto sotto stretta osservazione la fase rialzista di Bitcoin può proseguire solo e unicamente al superamento di questo livello 18 è qualcosa cioè lo spike che aveva raggiunto proprio verso il 14 dicembre in vista del famoso rally di Natale che poi si è diciamo aggrovigliato su se stesso e ha perso lo sdlancio da questo punto di vista quindi il minimo del ciclo mensile è intorno ai 16 e qualcosa quindi 1000 dollari di più questa fase rialzista è assolutamente assodata anche su Bitcoin vedete ed è tutta naturale però attenzione che vedete anche qui quanto si avvicina alla scadenza poi del ciclo mensile in pratica noi siamo nella campana rialzista di questa fase ecco perché vi dicevo che entro il 10 15 di gennaio il fatto che avessimo una fase rialzista era assolutamente normale e ci poteva stare il mercato ci ha dato ragione però è dopo il problema quindi proprio questa fase qui dobbiamo tenerla con le pinze ed è il gioco del investimento ragazzi del trailing cioè non possiamo avere una strada che unicamente ci dice una direzione senza rischi senza possibilità di errore e quindi senza stop possibile i mercati non sono così quando la strada è un po' con i sassolini con le buche è sempre più ghiotta da certi punti di vista perché si prendono delle decisioni quindi noi poi dobbiamo alla fine decidere e decidere fondamentale sui mercati sulla vostra operatività in questo momento come vi dico da più di un mese quasi due la soluzione di stare long per un po' di tempo è quella giusta perché le probabilità erano a favore di questa fase qui ma è una probabilità potrebbe finire appunto a momenti la questione perché io già dalla metà di gennaio inizierò un pochettino ad essere molto perplesso sul mercato perché ci sarà questa scadenza ciclica di bitcoin che dovremmo andare a monitorare cioè la chiusura del ciclo mensile ancora però non andrò certamente mai contro un trend del genere bitcoin ce la fa tra le altre cose superato 17.2 il tappo viene meno perché bitcoin potrebbe accelerare proprio nelle prossime ore se riesce a superare magari sul discorso di Powell che verrà vi ricordo domani domani c'è il discorso di Powell alle 15 ora italiana e potrebbe tranquillamente schizzare su perché il break confermato in close delle 17.3 dei 17.3 dei 17.500 dollari porta tranquillamente all'arrivo di questo nuovo massimo senza alcun problema perché qui non c'è nessun livello di resistenza e la vera vera resistenza è questa zona una zona che tutto sommato non è così distante e potrebbe configurare il famoso minimo minimo crescente massimo crescente massimo crescente quindi la famosa inversioncina di trend di breve periodo molto laterale rialzista e non una curva diciamo esponenziale però interessante anche considerato il fatto che c'è un problema di trendline discendente che proprio unisce queste strutture quindi il canale di bitcoin discendente lo può tranquillamente toccare in questa zona vedete intorno ai 18.000 e da qua magari andarsi a fare la sua chiusura ciclica non ci sarebbe niente di strano quindi ancora si continua con questa fase siamo a pochi giorni dall'inizio del ciclo mensile di bitcoin che in questo momento è a 10 giorni considerate più o meno una metà intorno a 15 19 giorni e potrebbe tranquillamente nei prossimi 2-3 giorni magari farci l'ultimo balzello prima magari di un fase di respiro che poi è quella che è fondamentale quindi andiamo a vedere anche ethereum perché non lo vediamo da un po' quindi ancora in questa fase diciamo secondo me il ciclo mensile di bitcoin continuerà a reggere vediamo se ce la fa nei prossimi due giorni soprattutto in base a Powell a quello che dice Powell perché se Powell raffredda tutti i volenti spiriti e lo fa domani proprio nel suo speech allora ritorniamo poi coi piedi per terra la questione di ethereum andiamola a vedere subito ok ragazzi allora strutturalmente ethereum ha un ciclo differente rispetto a quello di bitcoin intanto il minimo di giugno di ethereum non è stato mai breccato questo è estremamente significativo però poi ha un concetto cioè questa fase probabilmente mensile di bitcoin che si va a configurare con la chiusura verso febbraio su ethereum ma anche qui ragazzi avremo più o meno la prima decada di febbraio che conclude più o meno questo ciclo classico da 80 giorni ethereum la sta facendo in forma ternaria quindi diversa da bitcoin che invece l'ha fatta binaria quindi abbiamo 1, 2 e 3 quindi queste strutture cicliche indicano che il ciclo di ethereum questo ternario iniziato non come bitcoin a fine mese ma il 19 di dicembre e teoricamente potrebbe essere già vicino alla sua fase di conclusione quindi su ethereum sarei più attento proprio voglio vedere quello che farà nei prossimi 2-3 giorni perché intanto vedete dov'è è inutile che ve lo spiego magari vabbè ragazzi ve lo spiego dai allora qui c'è un tappo quando c'è un tappo è molto interessante perché guardate qui questo tappo di palestra su ethereum cosa succede se viene breccato in close fa un boom un super pump quindi ancora in questa zona potrebbe arrivare tranquillamente qui nell'arco di praticamente un giorno cioè si spara un altro 100 dollari magari e sale su perché non ha vincoli ancora una volta non ha nessun vincolo neanche questo quindi anche quell'ora qui si è iniziato un nuovo ciclo è da 150 giorni quindi spinge in tutta questa prima parte potrebbe fare il suo massimo proprio addirittura a febbraio in questa zona qui e potrebbe farlo con grande tranquillità intorno a questa zona quindi potrebbe fare un primo bump qui puoi chiudere un ciclo e arrivarci magari con calma verso fine mese i primi di febbraio in questa zona prima di andare a chiudere il movimento e poi da lì tutto da giocare la partita quindi questo raggiungimento di questa fase per ethereum sarebbe consono anche al famoso canale di bassista vedete della strutturazione di questo ciclo che teoricamente ethereum potrebbe proprio breccare nell'arco dei prossimi giorni un break anche di questa trendline discendente sancirebbe l'arrivo come vi dicevo in questa zona per poi un eventuale pullback perché vi sto dicendo che questa cosa è possibile perché quando si inizia un ciclo sottostante superiore come nel caso di dire sicuro un ciclo da altri 150 giorni il break out di una trendline di un canale discendente è molto comune quindi questa è una cosa molto comune che potrebbe avvenire in maniera abbastanza probabile se nell'arco dei prossimi giorni questo rialzo continuerà appunto come vi sto dicendo quindi secondo me anche su Ethereum siamo davanti a un tappo non mi suona male il concetto che se domani Powell dirà qualcosa che le borse prenderanno male qui domani ragazzi facciamo un altro 5-10% di pump e ci portiamo a casa questa cosa questo è quello che vediamo oggi la soluzione in questo momento dei scenari ci dice che la probabilità di continuare questa fase rialzista per i prossimi 3-4 giorni è ancora più alta ma dal 15 di gennaio in poi anche diciamo dopo la questione Powell possiamo dire diciamo prima del 12 ecco magari dal 12-13 gennaio in poi bisogna essere precisi perché escono delle news importanti bisogna iniziare a dubitare di questa fase rialzista e cercare di capire come muoversi poi successivamente intanto tutto sta andando più o meno secondo questa logica quindi io continuerò in questa fase per il resto ragazzi nei prossimi video andremo a vedere una serie di nuove cripto veramente interessanti che secondo me potrebbero essere molto buone da guardare proprio nel 2023 anche perché anche qualora noi fossimo in un annuale ribassista ancora nel settore delle cripto è vero possiamo avere una fase ribassista che può continuare fino a luglio come abbiamo detto ma dopo luglio che succede? questo a noi interessa quindi dobbiamo prepararci anche a quello che verrà dopo perché lì che si fanno veramente i dindini lì che si fanno i soldi ci sono le grandi occasioni quando siamo pronti siamo con le idee chiare e le soluzioni definite ciao a tutti e buon inizio settimana